Musica Signore e signori benvenuti e buona domenica in compagnia del TG6 la settimana. Anche in Abruzzo nelle ultime due settimane è cresciuto sensibilmente il numero dei positivi al Covid-19. Il virologo Paolo Fazzi invita alla cautela e all'uso delle mascherine in luoghi affollati. Ascoltiamo. Cresce ormai costantemente da due settimane il numero dei positivi nella nostra regione. I dati non inducono per i prossimi giorni ad un grande ottimismo, ma è giusto non fare allarmismi. In molti però non si aspettavano una curva così in salita, soprattutto in pieno periodo estivo. Anche se il virologo Paolo Fazzi non è dello stesso avviso e spiega il perché ai nostri microfoni. Francamente io me l'aspettavo. Me l'aspettavo perché ci sono state due variabili importanti che hanno remato tutte dalla stessa parte. Quindi a favore dell'esplosione dei casi della virosi di Covid-19. La prima variabile è legata al fatto che adesso noi abbiamo come variante prevalente Omicron e ultimamente anche dei sottotipi 4 e 5 che sono estremamente trasmissibili. Parliamo quindi di un virus che secondo alcuni studi ha un R con 0 quasi simile a quello del morbillo che ormai tutti sappiamo è il microrganismo che ha l'R con 0 più elevato, un R con 0 che va da 15 a 18. Dicono che questi Omicron 4 e 5 abbiano un R con 0 12-15, quindi molto molto infettante. E dall'altra diciamo l'atteggiamento non congruo da parte della cittadinanza, ovviamente che in parte è anche giustificata perché dopo due anni e mezzo di Covid evidentemente la gente si è stufata a portare la mascherina che però purtroppo è l'unico presidio utile a garantirci dalla virosi e dalla circolazione del virus. Fasi chiarisce poi la problematica relativa alla quarta dose considerando l'arrivo in autunno di un vaccino aggiornato con le nuove varianti di Omicron. Il fragile, l'anziano con delle comorbidità deve fare la quarta dose, la deve fare perché questo virus, questa variante Omicron è molto infettante, poco patogena, ma comunque può essere esattamente patogena in questi setting di soggetti. E quindi la quarta dose va fatta. I soggetti magari diciamo non fragili che magari non hanno appunto delle comorbidità teoricamente potrebbero aspettare anche l'autunno per fare il vaccino considerando che sembra che verrà commercializzato per quella data un tipo di vaccino ridisegnato appunto su Omicron. Presentate preso la Biblioteca Delfico a Teramo, le attività del nuovo Istituto Tecnico Superiore Turismo Cultura. Una nuova opportunità con l'obiettivo di formare profili pronti da inserire nel mondo lavorativo ed in grado di saper comunicare e valorizzare le bellezze della nostra regione. Abbiamo voluto fortemente come giunta regionale questo ITS del turismo perché la nostra regione ha forte vocazione turistica. Quindi è vero che dobbiamo intercettare dei flussi turistici ma anche è vero che dobbiamo formare dei profili esperti in turismo e per questo l'ITS che è una via di mezzo tra le superiore università va sicuramente in questa direzione. Nascerà a Mociano, il presidente è di Lodovico, la particolarità dell'ITS che è una percentuale di ore i ragazzi che li svolgono nelle aziende e quindi l'80% ha occupabilità. Sono molto soddisfatto appunto perché cresciamo la qualità a livello turistico che ce n'era veramente bisogno. Questo è il sesto, ce ne sono altre 5 con altre specialità. I pensum e i programmi di preparazione nascono dalle necessità del sistema turismo e dalle necessità delle aziende turistiche. Quindi prepareremo questi percorsi di formazione e i ragazzi inizieranno ad avere una relazione diretta già con le aziende in quanto il 30% del tempo di studio sarà in pratica nelle aziende. Questo ci permetterà a noi di assicurare ai ragazzi che stiamo formando un futuro lavorativo e gli permetteremo alle aziende di migliorare la loro qualità avendo del personale idoneo per le attività. In Italia c'è il grande problema dello skill divide. Paradossalmente abbiamo tanti disoccupati ma allo stesso tempo abbiamo tante aziende che hanno bisogno di personale che non trovano preparati per i loro fabbisogni. L'ITS cercherà di attaccare questo problema. La cronica carenza di personale e i turni di ferie stanno portando all'accolpamento di reparti ospedalieri. Questo allarme è lanciato dalla CGL Abruzzo che ha inviato una difida all'assessorato regionale alla sanità sullo stato dei pronto soccorso. Vediamo. La CGL Abruzzo ha inviato questa mattina una difida all'assessorato regionale alla sanità per denunciare la difficile situazione dei pronto soccorso degli ospedali abruzzesi intimando alla regione di attuare tutte le azioni necessarie a ripristinare le migliori condizioni per i degenti che restano anche per più ore nella zona di emergenza urgenza. Sono mesi che nelle prime pagine di tutti i giornali locali vengono fuori i problemi della sanità e oramai del diniego del diritto alle cure dei cittadini. Dalla questione dei pronto soccorso per i quali abbiamo fatto formale denuncia alla questione delle liste di attesa che spesso sono chiuse e bloccate per prenotare una vista che addirittura ci si prenota al 2024 è messo in discussione il diritto alla sanità dei cittadini abruzzesi. Questa dovrebbe essere una priorità della regione Abruzzo, della giunta regionale ad oggi non sta accadendo niente, non c'è un atto di programmazione dal punto di vista del personale che è una priorità perché la sanità la fanno soprattutto gli operatori sanitari, medici e infermieri in due anni e mezzo non abbiamo un atto complessivo di programmazione seria che riesca a mettere personale dentro la sanità e quindi oggi una denuncia formale perché la nostra regione, i cittadini abruzzesi non meridono di vivere in questa situazione di disagio e messo in discussione il diritto alla cura. La CGL ha poi puntato l'indice anche sulla cronica mancanza e carenza di personale medico e paramedico nei reparti e anche nei presidi di pronto soccorso. Sono anni che chiediamo di conoscere la consistenza delle dotazioni organiche sapere a fronte degli annunci dell'assessore alla salute che rivendica centinaia, migliaia di assunzioni quanti dipendenti sono andati in pensione perché dovremmo partire da questi. Per ultimo, il tavolo di dieci giorni fa noi non abbiamo sottoscritto un accordo in quanto non solo si rifiuta e si rimanda ad ottobre, ad autunno la stipula di un accordo per la stabilizzazione tenuto conto delle previsioni del comma 268 della legge di bilancio che permette addirittura la re-internalizzazione di servizi ma si peggiora la norma nazionale per la stabilizzazione dei tempi determinati rischiando di inficiare l'intera procedura perché noi pensiamo che una norma nazionale non possa essere violata. Scaduto l'ultimatum del prefetto Armando Forgione sulla approvazione del bilancio consuntivo del 2021 del Comune di Chieti. L'arrivo del commissario che dovrebbe essere nominato a giorni è stato confermato anche dall'amministrazione comunale. Per il consuntivo si procederà con il commissario. La decisione presa dal prefetto di Chieti Armando Forgione viene confermata per bocca della stessa amministrazione comunale. I ritardi inevitabili sono dettati soprattutto dalla complessa situazione finanziaria dell'ente e di teatro e servizi oltre alla carenza di organico nei settori. L'individuazione di un commissario ad acta stringerà i tempi e aiuterà a mettere ancora più in trasparenza l'intero quadro economico e finanziario dell'ente. L'amministrazione comunale si è già messa a disposizione come conferma il vice sindaco Paolo De Cesare. Abbiamo lavorato e stiamo continuando a lavorare lacremente per far sì che questo avvenga prima possibile. Abbiamo inviato ieri alla prefettura una relazione che conteneva anche con allegati tutto il lavoro che abbiamo svolto fin qui. Siamo certi che nei prossimi giorni riusciremo a portare a compimento questo atto, questo provvedimento. Confidiamo nel lavoro della prefettura e assolutamente prendiamo atto della scelta ritenuta quella di nominare anche un commissario ad acta che sarà di affiancamento o comunque di supporto a questo tipo di attività che già il settore affari finanziari sta portando avanti. Purtroppo, come lei diceva, Teatreservizi che ha fornito i dati il 30 giugno per ragioni oggettivamente ostative cioè quelle di tutta la procedura che è in corso di istanza di fallimento e tutto ciò che ne consegue è stata impossibilitata a fornirci questi dati prima della suddetta data. Quindi, pertanto, noi siamo fiduciosi il lavoro che stiamo facendo lo stiamo svolgendo in maniera celere stiamo lavorando anche di sabato e domenica e siamo sicuri che a giorni porteremo a compimento questo tipo di atto. Si tratta di un atto dovuto del rendiconto 2021 è ciò che, diciamo, è stato già svolto nell'anno passato è un esercizio che, ripeto, viene chiuso con questo atto e ci accingiamo a farlo e, ripeto, sicuramente sarà anche da sprone di supporto il commissario che la Prefettura avrà individuato. Nel 2022 l'Abruzzo si attesta tra le peggiori in Italia per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. Secondo uno studio della CGL nella nostra regione gli infortuni sono aumentati del 66% rispetto al 48% del dato nazionale. Sono aumentati del 66% gli infortuni sul lavoro in Abruzzo nel periodo gennaio-maggio 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Un dato peggiore di quello del resto d'Italia dove la crescita è stata del 48% e che attestano la nostra regione al terzo posto di questa triste classifica superata solo da Campania e Liguria. Numeri che confermano tutte le preoccupazioni denunciate dalla CGL nei mesi scorsi ma che paiono essere cadute nel vuoto. Sono stati complessivamente 7.628 gli infortuni nei primi cinque mesi dell'anno 3.046 in più del 2021 di questi 2.333 in provincia di Chieti più 56% 1.411 all'Aquila più 45% 1.767 a Pescara con una crescita del 55% chiude la provincia di Teramo che con 1.208 infortuni raddoppia il dato dello scorso anno attestandosi con un più 109% tra le province d'Italia in cui più alto è stato l'aumento percentuale degli incidenti sul lavoro un aumento causato in particolare da scelte organizzative volte ad affrettare i tempi di lavorazione sia per ragioni di offerta commerciale che percorsa al bonus non è un caso infatti che se si escludono gli infortuni covid ad essere maggiormente colpiti sono i settori del trasporto e magazzinaggio 749 infortuni e quello delle costruzioni 367 a ciò si somma la sempre più elevata precarizzazione del mondo del lavoro ogni 10 nuovi contratti 8 sono precari e 3 di questi di durata inferiore ad un mese una condizione che espone maggiormente al rischio infortuni scarsa conoscenza della professione formazione spesso assente e elevata ricattabilità di chi non rischia di non vedersi rinnovato il contratto nel caso denunci problemi di sicurezza sono il mix perfetto per chi aumenti in rischio di incidenti le autostrade A24 e A25 che collegano il Lazio e Abruzzo non saranno più gestite da strada dei parchi la cui concessione sarebbe dovuta scadere nel 2030 il provvedimento è stato preso dal Consiglio dei Ministri il quale per assicurare la continuità dell'esercizio autostradale ha disposto l'immediato subentro di Annas S.P.A. nella gestione della A24 e della A25 vediamo tanto tuonò che alla fine piobbe potrebbe essere riassunto così il provvedimento preso ieri dal Consiglio dei Ministri che ha approvato un decreto legge che prevede la revoca della concessione sulle autostrade A24 e A25 all'azienda che le aveva in gestione strada dei parchi S.P.A. controllata interamente dalla società Toto Holding lo scorso maggio strada dei parchi aveva inviato una lettera ai ministeri delle infrastrutture e dell'economia per chiedere la fine anticipata della concessione dopo che era stato bocciato il piano per mettere in sicurezza le autostrade dal rischio terremoti e per realizzare altri adeguamenti richiesti per legge tra le motivazioni citate dal Ministero dei Trasporti per la revoca della concessione c'è proprio l'inadeguato stato di manutenzione delle autostrade sulla vicenda è intervenuto il senatore presidente della sesta commissione permanente finanze tesoro del senato Luciano D'Alfonso io ho la percezione che sia stato un provvedimento emotivo adesso vediamo quanto possa durare questo provvedimento e io mi auguro che non generi un contenzioso che trascini dentro a questo vortice i diritti degli abruzzesi i diritti degli italiani che vanno e vengono attraverso questa autostrada e spesso ha avuto interlocuzioni con Anas le ha sempre portati in ballo ecco torna ad Anas ad Ostrada dei Parchi è la tua scelta giusta ma assolutamente Anas è capaci di fare questa attività io sono stato consigliere d'amministrazione di Strada dei Parchi prima che si chiamasse così si chiamava Sara tra il 97 e il 2001 quando c'era un privato allora e c'erano le province italiane ed era una gestione per conto Anas mi ricordo nel 2001 quando si fece la gara che fu una gara dettata io dico con un termine tecnico da alcolismo perché si stabilì che le tariffe avrebbero dovuto pagare i piani degli investimenti l'impazzimento stava in quella anomalia di gara d'appalto che fece allora un governo sbagliato con una procedura sbagliata il fatto che questa autostrada di montagna diventi pubblica va benissimo io mi auguro solo che il contenzioso non divori il diritto degli abruzzesi di avere un'autostrada sicura con un personale pagato dignitosamente a Pescara si è aperto la strada a pendolo che finalmente potrà collegare le due zone ovest della città quello di oggi è stato il gran giorno dell'inaugurazione della strada pendolo a Pescara dopo decenni di attese e promesse in evase il capologo adriatico potrà da oggi fruire finalmente di un'arteria fondamentale per la viabilità un'infrastruttura che rientra tra gli interventi di riqualificazione della parte ovest del capoluogo e che punta inoltre a ridurre i volumi di traffico sull'intero territorio comunale al taglio del nastro questa mattina c'era la maggioranza di governo cittadina quasi al completo come ha spiegato il sindaco Carlo Masci era da metà anni 70 che si pensava alla realizzazione della strada pendolo oggi noi inauguriamo il primo tratto il più importante quello che collega la Tiburtina con via Salara Vecchia oltretutto in questa zona c'era un degrado assoluto drogati, spacciatori c'era veramente di tutto e i cittadini della zona vivevano in condizioni veramente drammatiche oggi invece c'è una bellissima strada un bel viale con verde, piante pista ciclabile e poi continuerà con l'altro tratto che parte da San Donato e poi il terzo tratto di via Pantini questo percorso permetterà di arrivare da Francavilla ai colli di Pescara passando per San Donato Villa del Fuoco e l'ospedale senza passare per il centro della città quindi non intasando il centro alleggerendo la viabilità in una condizione ottimale sono passati tantissimi anni nessuno riusciva a fare questa strada perché non si volevano espropriare i terreni e noi siamo arrivati abbiamo espropriato i terreni e oggi ci sono le strade che stiamo realizzando fra 20 giorni inaugureremo l'altro tratto e a settembre il terzo tratto avremo completato il lavoro che durava veramente da tantissimi tantissimi anni Raggiante l'assessore alla viabilità Luigi Albore Mascia che con il suo assessorato è al lavoro per una città meno ingolfata di traffico e sempre più a misura d'uomo Durante la mia amministrazione inaugurammo quella di via Lago di Capestrano oggi invece inauguriamo un altro tratto in attesa di quello definitivo e finale per una sorta di circonvallazione cittadina io la definisco così che ha una funzione strategica importante sull'alleggerimento del traffico soprattutto sulle strade laterali sul traffico locale che quindi può essere utilizzato anche da pedoni può essere utilizzato da ciclisti anche per la mobilità sostenibile in maggiore tranquillità rispetto ai flussi di traffico veicolare adesso cambiamo argomento e parliamo di sport Teramo e Campobasso sono escluse dalla prossima serie C la decisione del Consiglio federale non ha modificato quanto già era stato decretato dalla Covisoc non più tardi di una settimana fa vediamo tutto come previsto Teramo e Campobasso sono escluse dalla prossima serie C la decisione del Consiglio federale in programma questa mattina non ha modificato quanto già era stato decretato dalla Covisoc non più tardi di una settimana fa il mancato rispetto dei paletti per riscrizione al torneo 2022-2023 non poteva che portare alla conferma di stamane l'assise odierna tuttavia non farà terminare la battaglia legale del diavolo che vista la pronuncia negativa anche oggi potrà andare dinanzi al collegio di garanzia del CONI cercando di far valere le proprie ragioni l'udienza dovrebbe svolgersi intorno al 18 luglio di fatto coi tempi a fine mese si avrà la certezza almeno dal lato sportivo il documento che approva la rateizzazione dell'IVA non versata nelle stagioni precedenti dal 2016 al 2019 arrivato nei giorni scorsi non potrà entrare a completare la domanda di iscrizione che manca peraltro anche dell'allegato relativo all'indice di liquidità dello 07 per cui servirebbe una ricapitalizzazione vicina al milione di euro è evidente in ogni caso che bianco rossi e rosso blu molisani ci proveranno fino alla fine anche rivolgendosi alla giustizia amministrativa dopo quella sportiva con una precisazione nel TAR e neppure il Consiglio di Stato in seconda battuta potranno entrare nel merito dell'ordinamento sportivo ma soltanto rilevare se ci sono norme valide che regolano l'iscrizione ai campionati e se queste sono state correttamente applicate è chiaro che si tratta di una battaglia complicata al limite dell'impossibile e il Teramo per questo non vorrebbe farsi trovare impreparato per un eventuale piano B nel frattempo è slittata anche la decisione sullo sblocco delle quote di maggioranza del Teramo collegate alla Green Sports Italia SRL società a sua volta controllata dalla Edil Green di Massimo Chierchia amministratore unico del club proprio quest'ultima azienda mesi fa è finita nel decreto di sequestro che ha riguardato diverse aziende nell'applicazione di misure di prevenzione questi tuttavia sono argomenti che in un frangente drammatico sportivamente parlando come questo entrano relativamente nella discussione all'interno di una tifoseria che vede scarpar via il mondo del professionismo a un decennio dal campionato di serie D vinto sul campo di Atessa manovre di mercato in entrata per il Pescara soprattutto sul fronte giovani su Ghislandi dell'Atlanta si è inserita nelle ultime ore la Triestina mentre Vergara gioiello della primavera dei Napoli è obiettivo complicato ma il Delfino vuole provarci dopo Michael De Marchi altre due cessioni ufficiali per il Pescara sono delle ultime ore infatti le trattative concluse con potenza indipendente per Andrea Di Grazie ed Edgar Elisalde entrambi a titolo definitivo due giocatori che da tempo non rientravano più nel progetto tecnico bianco-azzurro a maggior ragione adesso che sta per essere completamente ridisegnato con il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore per l'attaccante problemi fisici affoggio nell'ultima stagione e la possibilità di riscattarsi in Basilicata sempre nel Girone C sempre in Sud America ma cambiando nazione dall'Uruguay all'Argentina quello che capiterà ad Edgar Elisalde 11 presenze nel torneo di apertura e 5 in Coppa Libertadores in entrata invece si complica la strada che doveva portare a Davide Ghislandi l'esterno destro di proprietà dell'Atalanta sembrava ad un passo dal Pescara con cui era tutto fatto ma il pressing delle ultime ore della Triestina potrebbe aver fatto cambiare completamente le idee al ragazzo e cambiato anche le carte in tavola per quello che riguarda il suo futuro del classe 2001 cresciuto a Zingonia si profila una vera battaglia con gli alabardati per assicurarsi le prestazioni del giovane cursore sempre in entrata ma in tutt'altra zona di campo invece c'è l'interesse forte non solo del Pescara per Antonio Vergara del Napoli il talento della Primavera Azzurra non è partito per il ritiro di Di Maro perché è vicino al trasferimento per fare esperienza in Lega Pro su di lui il DS Delicari ha messo gli occhi ma il Delfino non è solo nella corsa al giovane centrocampista del 2003 Vergara è stato una delle punte di diamante della formazione allenata da Frustalupi e tra gli elementi di spicco dell'intero settore giovanile partenopeo in questa stagione dove ha avuto anche qualche acciacco fisico Vergara ha collezionato contando campionato e play out 5 gol e 13 assist risultando il miglior assistman del campionato Primavera 1 insieme al gemello Giuseppe Ambrosino i due calciatori sono stati osservati da Luciano Spalletti e dal suo staff tanto che la convocazione per il ritiro di Di Maro pareva abbastanza scontata così almeno per lui non è e allora su questo prospetto si sono fiondate oltre ai biancazzurri anche Cesena Bispesaro e Provercelli quest'ultima che sembra essere al momento la candidata principale ad assicurarsi le prestazioni del giocatore nato a fratta minore entro lunedì Vergara prenderà una decisione scelerà il progetto più adatto a lui ma la Pro il cui direttore sportivo è Alex Casella sarebbe molto vicino a fargli vestire la casacca della formazione piemontese e portarlo nel girone A di Lega Pro Signore e signori anche per oggi termina qui l'edizione del TG6 la settimana grazie di averci seguito buon proseguimento Grazie a tutti 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 Grazie a tutti